come cavolo hai fatto? chi te l'ha insegna? lavori al circo ehi il pavimento dov'è? no non ci casca tanto lo so che è solo un trucco mi volete far credere che è senza fondo che è una voragine così io per la paura di cadere giù ci ripenso e torno indietro e poi c'è il fondo qui non lo riesco a vedere ma c'è il fondo ehi qui il fondo non c'è non c'è stiamo aspettando scusi Corri! Corri! Grazie.